Cosa ne pensa del no di Monbaroccio alla fusione con Pesaro? Ma per me è sbagliato, il comune piccolo aveva tutto da guadagnare a essere fuso con uno grande, per noi a Pesaro non cambia niente. Mi dispiace per loro, nel senso noi siamo un po' più grandi, forse potevamo dare una mano reciproca. Mi auguro solo che fossero stati ben informati dei pro e dei contro di unirsi con un comune più grande. Voglio dire, l'unione fa la forza, si dice, quindi forse non era proprio così malvagia la prospettiva. Monbaroccio ha detto no alla fusione con Pesaro, cosa ne pensa di questa cosa? Io sarei d'accordo alla fusione. Eh, lei sì, loro no, hanno detto di no. Eh, pazienza. Per loro va bene così, sicuramente va bene così, però secondo me insomma un sì forse era migliore, insomma diciamo, però forse diciamo le problematiche del paese lo conoscono più chi ci abita e chi l'ha votato, sicuramente. Monbaroccio ha detto no alla fusione con Pesaro, cosa ne pensa? Male. Perché? Perché oggigiorno l'unione fa la forza e quindi si va verso quella direzione, per forza di cose. Chi aveva più da guadagnare in questo caso? Sicuramente Monbaroccio. Eh, io penso che invece potrebbe andare bene, sì. Invece hanno detto no. Hanno detto no, pazienza. Cosa ne pensa del no di Monbaroccio alla fusione con Pesaro? Hanno detto no. Ha detto, beh, sembra un risultato giusto, perché io non sono quella zona, però ritengo che il cittadino che ha vissuto in quella zona resti nella sua propria tradizione, giusto così. Anche se non lo conosco, perché sono in una zona nuova di qua. Penso che sia un'ottima scelta. Un'ottima scelta. Un'ottima scelta. Un'ottima scelta. Certo. Un'ottima scelta. Grazie.